Ciao a tutti e grazie se avete deciso di iniziare o continuare la mia rubrica in cui recensisco tutti i classici Disney dividendoli in base alle epoche in cui sono stati diciamo organizzati e oggi spero e credo di essere un pochino più breve rispetto alle altre volte perché andiamo a concludere l'epoca d'argento, la Silver Age che come ho detto nel video scorso viene fatta partire nel 1950 anno in cui si propone Cenerentola, grande fiaba, grande successo che effettivamente rimette un pochino in sesto la Disney e si conclude nel 1967 questo perché nel 1967 esce l'ultimo film a cui Walt Disney lavora attivamente nel senso che aveva già dato il suo benestare per il film che uscirà nel 1970 gli Aristogatti mi pare avesse comunque già iniziato a pensare anche a dei film che sarebbero usciti più avanti ovviamente rispetto alla sua morte però il libro della giungla è l'ultimo film a cui lui ha lavorato attivamente quindi ovviamente diciamo che l'epoca sfavillante termina con la sua morte perché poi ci sarà ovviamente il lungo periodo che seguirà la morte di Disney in cui l'azienda sarà un pochino in difficoltà non tanto a livello di successi perché non è che dopo la Disney non avrà più successi prima a quello che noi conosciamo come il famosissimo rinascimento Disney in realtà gli incassi furono abbastanza buoni anche nei film degli anni 70-80 con qualche eccezione però chiaramente mancò un pilastro fondamentale una guida come Walt Disney un uomo sicuramente di grande autorevolezza molto deciso su quello che voleva fare e quindi diciamo che furono un po' le basi a vacillare e questo ancora di più quando soprattutto negli anni 80 i Nine Old Men si ritirarono quindi i nove animatori che avevano lavorato con Disney praticamente fin dagli inizi smisero di lavorare insomma andarono in pensione si ritirarono e quindi effettivamente mancava una guida artistica mancavano un po' i binari sui quali viaggiare poi ovviamente la Disney riuscì a riprendersi benissimo come sappiamo però tornando in argomento oggi affrontiamo i tre film che sono usciti negli anni 60 e che vanno a chiudere la Silver Age abbiamo La Carica dei 101 del 1961 La Spada nella Roccia del 1963 e appunto Il Libro della Giungla nel 1967 allora sono tutti film che io apprezzo chiaramente adesso andiamo un attimino ad affrontarli uno per uno allora La Carica dei 101 film con i cani come avevo già detto per Lilia e il Vagabondo io adoro i cani per cui film assolutamente spettacolare che dire ha una delle villain più iconiche e forse anche più difficili da apprezzare io in genere amo sempre i villain però insomma apprezzare una persona che vuole fare delle pellicce con le pelle dei cani no, questo non ci arrivo neanch'io la coppia dei due aiutanti dei due sgherri di Crudelia Demon Gaspar e Orazio abbiamo lo Spilungone che fa tanto l'intelligentone poi quello più piccolo e cicciottello che fa sempre la figura un po' dello scemo sono due figure abbastanza presenti diciamo anche nella comicità in genere anche se a volte quello che dice Orazio è vero e Gaspar e non lo sta a sentire vabbè, film è molto bello ha quella intro stupenda innanzitutto dove si vedono tutte le macchie che vanno anche a comporre diciamo la musica della parte iniziale e poi ovviamente abbiamo Pongo che decide insomma di andarsi a trovare una compagna e di trovarla anche per il suo umano per il mio umano e quindi questa storia d'amore che inizia molto romanticamente al parco con i guinzali dei cani che si annodano ecco poi abbiamo questo matrimonio che ho sempre trovato molto singolare ci sono solo loro due davanti al prete non c'è un amico non c'è una famiglia però va bene e poi vabbè loro che si stanziano in questa casetta con Peggy che aspetta questi 15 cuccioli altra scena memorabile è quella della nascita dei cuccioli meravigliosa dove c'è appunto il cagnolino che inizialmente sembra non avercela fatta in realtà poi con il massaggio cardiaco diciamo si riprende questa cosa mi tocca perché è una cosa che è successa anche con la mia cagnolina che adesso ha quasi 11 anni però quando era nata sembrava non avercela fatta in realtà poi fu la madre a farle una specie di massaggio cardiaco e la fece riprendere e insomma è ancora super super in forma quindi vabbè la carica di 101 è un film sicuramente molto apprezzato ne approfitto anche per citare un autore di manga da poco scomparso Akira Toriyama famosissimo autore di Dragon Ball scomparso poco tempo fa e che si innamorò dell'animazione e del disegno anche grazie alla carica di 101 che lui che l'aveva che l'aveva lasciato abbastanza affolgorato quindi sicuramente è un film un film bello un film per bambini direi sicuramente ha dei momenti un attimino più inquietanti verso la seconda parte diciamo dove proprio si mette in atto il piano di Cordelia di Mono e poi è bello questa invece unione tra i cani che comunicano tra di loro utilizzando mezzi come il telegrafo il codice Morse molto carino molto intelligente e abbiamo anche la presenza di un gatto che mi sembra per la prima volta non sia un personaggio negativo il sergente che poi va a salvare i cagnolini che è più intelligente del del colonnello il cane quello che comunica per cercare di capire cosa è successo in un paio di occasioni è proprio il gatto a correggerlo anche il cavallo il cavallo anche lui è sempre un personaggio positivo però mi risulta che effettivamente sia il primo gatto che effettivamente agisce per i buoni quindi a differenza di quello che avevamo visto in Lily e il Vagabond in Cenerental dove il gatto si chiamava Lucifero perché era un rompipalle incredibile e in generale i gatti non sono mai stati proprio diciamo i personaggi positivi lo sono sempre stati i topi chiaro i cani i cavalli un po' meno i gatti quindi qui è interessante che comincia a esserci un po' di cambiamento anche da quel punto di vista quindi abbiamo questo personaggio felino che è che è un personaggio estremamente positivo molto coraggioso si intrufola nella casa dove effettivamente stanno i cagnolini e trova il modo intelligente di tenerli al sicuro e alla fine di portarli in salvo per cui assolutamente mi piace anche questo dettaglio e poi con quel finale molto allegro molto bello in cui si ritrovano con tutti questi cani i 15 cuccioli originali tutti gli altri che Crudelia aveva comperato e decidono che prima o poi insomma ci sarà ad aprire un allevamento di cani d'almata quindi Carica di 101 film molto bello assolutamente consigliato inutile dirlo passiamo poi alla Spada nella roccia 1963 altro film molto amato piace moltissimo anche a me come non innamorarsi di Merlino e Anacleto celeberrima è quella risata folle di Anacleto che è estremamente contagiosa sì insomma è un film in cui si affronta in maniera ovviamente molto romanzata molto liberamente la leggenda di Re Artù e della Spada nella roccia la tavola rotonda viene solo accennata verso il finale perché qua abbiamo un Artù bambino in cui che è stato adottato invece da un signorotto quindi Artù di fatto è orfano viene adottato c'è il figlio Caio che è l'erede però è un po' idiota insomma tutto muscolo niente cervello che Merlino detesta totalmente mentre invece Merlino invita Artù che qui viene soprannominato come semola a istruirsi e dare più importanza all'educazione del cervello che a quella dei muscoli magari a volte in maniera anche un po' esagerata perché insomma si possono fare anche entrambe le cose però vabbè il film è molto bello sono molto belli i riferimenti dell'epoca moderna in un'ambientazione medievale quando Merlino nomina elicotteri o missili o cose del genere e semola rimane chiaramente spiazzato non sapendo assolutamente di cosa parli addirittura il discorso della terra rotonda e Anacleto che giustamente gli dice non si può fare la storia ritroso l'uomo arriva a dove è arrivato perché ha attraversato delle tappe che evidentemente sono state fondamentali nel bene e nel male purtroppo e poi vabbè la presenza anche di Maga Mago che è una villain diciamo molto blanda rispetto agli altri non è tra le mie villain preferite è sicuramente divertente però non è che sia proprio una cattiva di quelle di quelle di spessore una Lady Tremaine o una Malefica è una cattiva è una cattiva comica è una cattiva divertente sebbene effettivamente a un certo punto stia per uccidere Semola quando lui è trasformato da uccellino e lei diventa il gatto e poi ovviamente la sua gara con Merlino in cui ovviamente lei bara all'istante infrangendo immediatamente le regole che sono appena state fissate e poi ovviamente il gran finale in cui Artù estrae la spada dalla roccia un ragazzino orfano senza avere un gran nome pelle e ossa quant'altro lui diventa il re d'Inghilterra per decisione divina diciamo questo un pochino si capisce nel momento in cui tocca la spada e c'è questa luce che scende dal cielo insomma quindi lui è il prescelto chiaramente il film insomma finisce finisce così con lui che in realtà ancora ragazzino non sa che cavolo fare perché ovviamente non ha idea di come si sia sovrani di un intero paese tra l'altro non un paesello ma insomma all'intero Inghilterra e quindi da lì nasce poi la grande leggenda di Artù è così che Disney ha voluto interpretarla non ha trattato di un Artù già adulto con insomma la leggenda cavalleresca con la moglie e l'ancillotto e quant'altro invece ha voluto focalizzarsi sul semola bambino sull'Artù bambino sul fatto come dice Merlino insomma una grande saggezza diciamo per i bambini che lo guardano che non esiste un mondo senza problemi e lo dimostra perché lo fa diventare pesce e nell'acqua ci sono i problemi diventa uno scoiatto l'animale di terra e ha dei problemi diventa un uccellino animale d'aria c'è sempre dei problemi e quindi anche con la magia sicuramente ci sono ci sono i problemi e ci sono cose che neanche la magia può può sistemare o può comprare insomma certo la scena in cui ovviamente fa lavare i piatti da soli è il sogno credo di tutti così come si era vista nella bella addormentata le pulizie che vengono fatte automaticamente dalle scope dagli spazzoloni e quello sarebbe il grande sogno diciamo che quando mi capita di vederlo quella bellissima catena di montaggio dei piatti che si lavano da soli è fantastica e quindi il film assolutamente promosso dal punto di vista sia della comicità che è giusta che della morale se vogliamo quella comunque di prediligere il cervello alla forza brutta è quello di capire che come dice la canzone per ogni su c'è sempre un giù per ogni men c'è sempre un più quindi il discorso degli opposti cioè il mondo è fatto di di opposti di luci e ombre di bene e male eccetera 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 e poi concludiamo con il libro della giungla è un film che io amo particolarmente nella mia top ten l'avevo messo sicuramente in top ten forse in top five ha un fascino particolare per me il libro della giungla sarà la musica che veramente ti rapisce fin dall'inizio con quella splendida intro e poi la musica jazz che che si sente soprattutto durante la scena la sequenza dedicata a re luigi e alle sue scimmie in originale doppiato da luis prima quindi da un cantante famoso e abbiamo anche in questo caso dei doppiatori che sono stati in originale delle figure importanti per lo spettacolo e per la musica come anche la voce di Baloo Phil Harris e anche in italiano ce la siamo ce la siamo cavata molto bene il doppiaggio funziona molto bene in originale il piccolo mobile è interpretato dal figlio di Wolfgang Reiderman che vediamo essere il regista di tantissimi praticamente tutti i film dagli anni 60 70 forse qualcosa anche degli anni 80 lui era uno di quei nove grandi animatori diciamo che lavorava con Disney praticamente fin dall'inizio e vediamo già qua un riciclo di scena quando Mogli viene salutato diciamo dai suoi amici lupi è praticamente la stessa scena in cui Semola viene accolto dai cani di Serettore e qui c'è un pochino il discorso del riciclo di cui verrà fatto grande uso negli anni 70 diciamo che informazione comune che il riciclo fosse stato fatto per un discorso di risparmio di tempo e di denaro cosa di cui ero convintissima anch'io credo che in tanti la pensino così in realtà leggendo articoli e vedendo altri video sono venuta a conoscenza del fatto che non c'era tutto questo gran risparmio di soldi o di tempo perché comunque gli artisti gli animatori dovevano andare a spulciare negli immensi archivi per andare a ritrovare la sequenza che poteva andare bene nel film che si stava realizzando e comunque non era un semplice copia e incolla dovevi poi ridisegnare tutta la scena da capo e adattarla ovviamente al film per cui non c'era poi tutto questo gran risparmio ci sono stati alcuni animatori che hanno effettivamente detto avremmo fatto prima a creare una scena da zero invece di utilizzare il riciclo la motivazione è un pochino più banale nel senso che era stato deciso di utilizzare delle scene già usate in precedenza perché così come avevano funzionato prima ed erano state ritenute vincenti allora sarebbero state vincenti anche per i film più più recenti quindi proprio Reiterman era un grande fautore di questa modalità di agire infatti comunque è stato il regista di tantissimi dei film di questi anni anche ovviamente dopo la morte di Disney si può dire che fosse una sorta di facilitazione nel senso che quella scena aveva già funzionato per cui la riprendiamo e la riutilizziamo in quella in quella del film che stiamo realizzando il film dove ci sono le scene più riciccate in assoluto sarà Robin Hood che è comunque un film molto godibile ma è pieno di scene riciclate anche all'interno dello stesso film ci sono 4-5 scene uguali dello sceriffo di Nottingham che cammina sono tutte identiche lì sicuramente può essere che una parte del discorso fosse per il budget perché comunque insomma è vero che la Disney non se la passò molto bene a un certo punto a livello economico però era anche un discorso che la camminata così funziona la possiamo riproporre anche in diversi momenti e un altro motivo era che a quei tempi gli anni 60 ancora anni 50 60 non erano ancora uscite le videocassette per cui probabilmente il pubblico non se ne sarebbe accorto se avesse visto il film La spada nella roccia nel 63 dopo 4 anni vedi il libro della giungla probabilmente non ti accorgi che la scena di Mogli con i lupi è identica alla scena di Semola con i cani cosa che invece poi è stata molto molto studiata ci sono un sacco di video in giro io fin da piccola mi ero accorta non so non è che sono un genio ma fin da piccola mi ero accorta che c'erano delle scene identiche soprattutto appunto in Robin Hood dove ci sono tantissime scene ricopiate basti solo pensare che Little John e Ka sono identici spiccicati a Baloo scusate ho detto Little John e Sir Bis sono identici a Baloo e Ka del libro della giungla gli hanno anche dato le stesse voci ci sono tantissime scene recuperate dagli Aristogatti dallo stesso Biancaneve quindi faceva un po' strano anzi ci sono stati alcuni autori che un po' si vergognavano del fatto che in un film degli anni settanta fossero state utilizzate delle scene della fine degli anni trenta quindi di quasi quarant'anni prima però insomma questo può piacere o non piacere io ho sempre trovato la cosa abbastanza carina un po' perché rendeva anche i film riconoscibili perché comunque vedendo quei film ti ricordavi anche quell'altro quindi non so se si possa trattare di una sorta di marketing però magari la verità sta un po' nel mezzo ecco forse c'era un piccolo risparmio a livello monetario ma a quanto pare è una mezza fake news nel senso che non c'era questo grande risparmio di denaro e di tempo perché appunto come ho detto prima dovevi andare a cercare in tutti gli archivi mastodontici e insomma non è che ci fossero sistemi di tecnologia avanzata e poi comunque dovevi ridisegnare tutta la scena però insomma libro della giungla sicuramente è stato l'ultimo film a cui ha lavorato Disney un film pregevole molto bello sicuramente vedendo i film di quegli anni rispetto ai film più recenti vediamo che l'azione è un pochino più lenta nel senso che non ci sono sempre personaggi che fanno cose l'azione non è sempre super dinamica super veloce c'è sempre qualcosa da fare a volte vediamo personaggi che stanno lì e occupano diciamo il tempo con scene che magari adesso riterremmo non so un po' noiose dei riempitivi come ad esempio tutta quella sequenza in cui Baloo fa conoscenza con Mogli e li insegna diciamo a dare i pugni la stessa sequenza delle scimmie alla fine alla sequenza delle scimmie c'è solo re Luigi che canta quella canzone iconica di lui che spera cioè che vuole diventare come come Mogli come un essere umano e nella fattispecie imparare ad usare il fuoco cosa che Mogli non sa fare qui sono tutti consapevoli del fatto che Mogli sia un essere umano e che di fatto non appartenga alla giungla effettivamente diciamo con occhi adulti fa un po' strano che Mogli cresciuto nella giungla fin praticamente da neonato sia in piedi retto e non abbia di fatto nessuna attitudine diciamo alla sopravvivenza perché non si sa arrampicare sugli alberi alla fine finisce sempre in qualche guaio non è guardingo non ha sviluppato un gran distinto come poi vedremo più avanti in Tarzan che anche lui ha vissuto nella giungla ed effettivamente si comporta come probabilmente si comporterebbe una persona cresciuta nella giungla lontana dal mondo civile invece Mogli per avere dieci anni è abbastanza incoglionito se vogliamo da questo punto di vista forse l'hanno reso un po' meglio nel live action che diciamo è uno dei live action meno schifosi che hanno fatto ed effettivamente Mogli invece qui l'hanno reso un pochino più intelligente dal punto di vista dell'istinto animale cosa che invece nel cartone non aveva per niente cioè nel cartone non so muore di fame se viene lasciato solo invece ha vissuto dieci anni nella giungla perché viene detto all'inizio per dieci primavere per dieci stagioni le piogge andarono e venirono quindi noi sappiamo che Mogli ha dieci anni dovrebbe aver sviluppato un maggiore istinto di sopravvivenza dovrebbe essere più capace di pensare come un animale che come un essere umano invece questa cosa non viene per niente sviluppata noi sappiamo che diciamo la storia che viene raccontata di Mogli tratta dal libro di Kipling è una delle storie che ci sono nel libro della giungla ovviamente non è tutto qui che ad esempio il personaggio di K viene totalmente cambiato perché nel libro un personaggio positivo è amico di Mogli qui invece uno dei villain che nelle due occasioni in cui compare l'unico suo intento è quello di mangiarselo e ovviamente il grande cattivo è Sher Khan che odia l'uomo così cioè odia l'uomo non è che lo odia così lo odia perché ha paura delle sue armi e del suo fuoco e diamogli anche torto voglio dire visto quello che hanno fatto delle tigri in India e a quanti pochi esemplari l'hanno ridotta quindi insomma c'ha qualche ragione anche Sher Khan che però appunto insomma desidera ammazzare Mogli prima che diventi un essere umano adulto in grado di utilizzare il fuoco il fucile con cui uccidere lui nel libro e anche nel live action vediamo uno Sher Khan un po' più spietato lo vediamo proprio uccidere mentre invece nella versione del 67 si cerca di ovviamente aggredire di Mogli poi viene fermato abbastanza violenta comunque la scena in cui lui poi aggredisce Baloo che era intervenuto per aiutare Mogli e quella scena mi aveva un po' scosso da piccola ammetto di essere sempre stata un po' sensibile ipersensibile forse ancora adesso un pochino mi fa effetto anche se so ovviamente che Baloo sta bene non so se inizialmente avessero pensato di far morire Baloo nello scontro oppure se era sempre stato preventivato che dovesse sembrare inizialmente che non ce l'avesse fatta invece invece alla fine insomma era solo stato tramortito da Sher Khan la presenza dei quattro avvoltoi che sono diciamo un pochino l'angolo comico con le fattezze chiaramente dei quattro Beatles è storia nota che Disney avrebbe voluto o Disney o comunque la Disney avrebbe voluto che fossero doppiati proprio dai Beatles ma il veto fu posto proprio da John Lennon che rifiutò non non so nello specifico quali fossero le ragioni però vabbè in italiano sono rese molto bene uno degli avvoltoi tra l'altro è doppiato da Oreste Lionello grande 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 voce del doppiaggio e il finale in cui poi qui invece Mowgli si lascia un po' guidare dall'istinto nel senso che sente e poi vede la ragazzina carina che va a prendere l'acqua c'è questa canzone che molti hanno criticato in tempi più moderni perché è una canzone ritenuta sessista perché c'è la ragazzina che canta io vado a prendere l'acqua mia mamma sta a cucinare mio padre in giro a caccia e quando sarò adulto anche io avrò una figlia io starò in cucina mia figlia andrà a prendere l'acqua bla 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 è un film è una storia ambientata nell'ottocento in india non è che potessero esserci le donne che andavano in giro come suffragette per cui chiamiamola anche maschilista se vogliamo io sono sempre dell'idea che insomma sì magari non era una grande aspirazione però che male c'è in fondo quella vita che si conosceva e che andava bene così gli uomini andavano a caccia e le donne stavano a curarsi i figli a cucinare è stata la realtà dei fatti per tanto tempo è inutile far finta di no c'erano in alcune culture anche le donne guerriere va bene però nella maggior parte dei casi la realtà dei fatti era questa per cui a me la canzone piace trovo la voce molto suadente e che insomma arriva al suo scopo che è quello di far avvicinare Mowgli al villaggio degli uomini in cui si era sempre rifiutato di andare ma non sapeva che c'erano anche dei lati positivi come una bella ragazzina e quindi qui effettivamente segue un po' il suo istinto animale è l'unico momento in cui questo succede libro della giungla è sicuramente un posto speciale nel mio cuore è un film bello bella la musica belle le voci bella la storia nella sua semplicità nella sua nel suo scorrere lentamente a un lentamente diciamo a un buon ritmo come la giungla poi ci sono dei momenti lenti dove c'è il dolce far niente ci sono dei momenti più concitati come la la colluttazione con con Sher Khan quindi assolutamente assolutamente nella adesso non saprei dire diciamo nello specifico le posizioni della mia classifica personale però è sicuramente al top il libro della giungla è sicuramente al top bene concludiamo qui appunto abbiamo terminato la silver age e fatemi sapere se vi va cosa ne pensate se vi piacciono questi film se siete d'accordo con me se non siete d'accordo con me come volete voi grazie a chiunque stia vedendo i miei video anche solo una decina di persone mi fa comunque piacere che possano trovare interessanti le cose che ho da dire e niente alla prossima puntata dei classici disney ciao ciao